La solidarietà è giusto che ci sia per tentare di risolvere i problemi, speriamo di non dover intervenire ancora. Abbiamo fatto già delle richieste più avanti, magari di altre disponibilità? No, per ora no, perché vanno anche loro, come diciamo, navigano a vista. Che capacità ricettiva ha il cimitero di Vicenza? Come numeri poi dipende anche dalle mortalità che abbiamo qua, perciò per ora diciamo che le teoriche 20 salme non abbiamo problemi a riceverle. Erano attese le ultime salme provenienti da Bergamo. Verranno cremate tutte insieme qui nei prossimi giorni per riconsegnarne le ceneri a ciascuno dei familiari rimasti necessariamente lontani. Una sofferenza che si aggiunge a sofferenza. La sofferenza è grande anche perché sembra di mancare verso la persona defunta non dando tutto quello che si vorrebbe dare in momenti così come sono la sepoltura.